Come trattare e curare la pelle RAS Un RAS è un'eruzione temporanea o scolorimento della pelle ed è spesso infiemmata o gonfia. Eruzioni cutanee sono disponibili in molte forme e livelli di gravità, e durano per diverse quantità di tempo. Infezioni, questa ampia categoria comprende una vasta gamma di malattie, tra cui le infezioni virali, come il morbillo, la rosolia, roseola, quinta malattia, varicella zoster, herpes zoster o eruzione cutanea. Le infezioni batteriche, come impetigine, scarlattino o la malattia di lime. Le infezioni fungine, come prurito gioc, una infezione fungino nella regione inguinale. Molti altri. Le reazioni allergiche, questi possono essere innescati da i farmaci, compresi gli antibiotici, farmaci sequestro e diuretici. Prodotti per la pelle d'attualità, come cosmetici, profumi o creme per la pelle. Gli alimenti, in particolare le arachidi, pesce e uova. Punture di insetti, comprese le api, vespe e calabroni. Irritanti locali. Questa categoria comprende la dermatite da pannolino, causata dal contatto prolungato della pelle con l'urina e feci, id'eruzione cutanee causate dal contatto con sostanze chimiche aggressive, come i saponi per boccato e ammorbidenti. Piante velenose, edera velenosa, quercia veleno e sommacco veleno. Condividere una resina linfaltamente allergizzante che può provocare eruzioni cutanee allergiche nel 70% delle persone esposte ad esso. Malattie autoimmuni. Questa categoria include il lupus eritematoso sistemico, le solupus, dermatomiosite e la sclerodermia, patologie in cui le difese immunitari dell'organismo erroneamente attaccano le aree sane del corpo, tra cui la pelle. Sintomi. Sebbene eruzione è facilmente riconoscibile, tutte eruzioni cutanee non sono gli stessi. Eruzioni cutanee variano nel loro aspetto, tempi, il luogo o la distribuzione, e la durata. In generale, eruzioni può essere descritto come Maculari, piatto, macchie rosse Papular, piccoli, assollevato, urti solidi Maculare e papulare, una combinazione Papulos cuamus, una combinazione di papule e aree squamose Vescicolari, piccolo, vescicole piene di liquido in rilievo Ulteriori segni ai sintomi che a volte accompagnano eruzioni cutanee e includono Febbre Ingrossamento dei linfonodi, ghiandole gonfie I segni di una reazione potenzialmente letale grave allergica chiamata anafilassi, che richiede cure mediche di emergenza immediata Difficoltà respiratorie, orticaria, vomito, crampi addominali, un rapido calo della pressione sanguigna, confusione e perdita di coscienza I segni di una malattia autoimmune, come il lupus, possono includere stanchezza, scarso appetito, febbre, gonfiore articolare, o dermatomiosite, spesso include i muscoli deboli Gonfiore e scolorimento viola delle palpebre e la difficoltà crescente dopo la seduta Diagnosi Il medico vi chiederà sulla vostra storia medica, compresa la storia di allergie e la vostra storia del lavoro, per verificare la possibile esposizione a sostanze chimiche irritanti o alle persone con infezioni Il medico può anche porre domande specifiche sulla tua eruzione cutanee, tra cui luogo e modello, la eruzione cutanee colpiscono solo le aree esposte al sole o solo le aree a contatto diretto con i guanti, scarpe, occhiali o maschere per il viso, come ci si aspetterebbe con reazioni allergiche ad una sostanza chimica nella voce A formare una farfalla modello sopra le guance e il naso, un classico segno di lupus, o lo fa produrre un rosso vivo uno schiaffo sulla guancia modello, un segno di quinta malattia Se sei un escursionista, ci si forma striature lineari lungo le gambe, un segno di edera velenosa Durata, ha fatto l'eruzione cutanee appaiono e scompaiono entro un giorno o due, come in roseola, o ha e durato per una settimana, come in quinta malattia, o più, come nell'es Esposizioni professionali, sei un lavoratore cura di giorno che possono essere esposti a bambini con malattie eruzione produttrici, morbillo, rosolia, roseola, quinta malattia Il medico può sospettare una causa specifica in base alla storia clinica e la storia della vostra eruzione cutanea Il medico cercherà di confermare questo sospetto esaminando del ras cutaneo aspetto, la posizione, il modello e gli eventuali sintomi associati In molti casi, i risultati del vostro esame fisico chiariranno la diagnosi, e saranno necessari ulteriori test Quando necessario, ulteriori test possono includere Gli esami del sangue, sebbene la maggior parte eruzioni cutanee e virali non richiedono l'identificazione specifica del virus, esami del sangue sono disponibili per identificare alcuni virus e batteri che causano infezioni avventate e produzione Gli esami del sangue possono anche essere fatto per verificare la presenza di malattie autoimmuni Patch test, se il medico sospetta una reazione allergica locale, lui o lei possono eseguire prove della pelle chiamato patch test In questi test, piccole quantità di varie sostanze chimiche sono posti sulla pelle per due giorni per vedere se un ras allergico sviluppa Lampada di Vood Lampada di Vood è una luce nera usata per aiutare a valutare eruzioni cutanee A seconda del motivo specifico per l'eruzione, la luce può causare l'area interessata della pelle a bagliore rosso, azzurro, giallo o bianco Test Zank In questo test, un blister viene aperto e raschiato per ottenere un campione che viene controllato in un laboratorio per segni di infezione da virus herpes Preparazione Co In questo test, una zona della pelle che è sospettato di avere una infezione fungina è raschiato delicatamente Materiale raschiato viene posto su un vetrino, trattato con Co, idrossido di potassio, ed esaminato al microscopio per i segni di funghi La biopsia cutanea In questa procedura, la pelle è intorpidito e un campione di pelle colpita viene rimosso ed esaminato in un laboratorio Può essere richiesto punti di sutura Durata prevista Quanto tempo dura una eruzione cutanea dipende dalla sua causa Tuttavia, la maggior parte delle eruzioni cutanee di solito scompaiono entro pochi giorni Ad esempio, l'eruzione di una infezione virale roseola di solito dura da 1 a 2 giorni, mentre l'eruzione di morbillo scompare entro 6 a 7 giorni Eruzioni cutanee causate da allergia agli antibiotici possono durare da 3 a 14 giorni, mentre dermatite da pannolino cancella quasi sempre entro 1 settimana, se i pannolini vengono cambiati frequentemente Eruzioni cutanee derivanti da lupus o dermatomiosite possono durare per un periodo prolungato di tempo Prevenzione La prevenzione dipende dalla causa del RAS Infezioni Verificare che voi e i vostri figli sono aptu date nelle vaccinazioni di routine Lavarsi le mani spesso, il bagno regolarmente e di evitare la condivisione di articoli di abbigliamento o governare personali con altre persone Per prevenire la malattia di lime, indossare indumenti di colore chiaro che contrasta con il segno di spunta buio e copre la maggior parte della vostra pelle quando si va nel bosco Utilizzare repellenti TIC approvati Essere consapevoli del fatto che si hanno maggiori probabilità di essere esposti alle zecche nelle zone del paese in cui la malattia di lime è comune Le reazioni allergiche, evitare il cibo, medicine, prodotti per la cura della pelle o cosmetici specifici che hai avuto una reazione a Mai prendere un farmaco prescritto per qualcun altro Se si sospetta che è allergico alle punture di insetti, si rivolga al medico Si potrebbe vedere un allergologo per il test e l'eventuale terapia di desensibilizzazione Potrebbe anche essere necessario un kit di api pungono, che contiene il farmaco di emergenza per prevenire le reazioni potenzialmente letali Assicuratevi di sapere dove il kit è a casa e prendere in considerazione ottenere uno in più se si partecipa spesso in uno sport all'area aperta Tenere il secondo nella borsa sportiva Irritanti locali, per la dermatite da pannolino Cambiare i pannolini, non appena diventano bagnato o sporco Assicurarsi che in basso del vostro bambino è completamente asciutta e pulita prima di chiudere il pannolino fresco Per la sensibilità a sostanze chimiche nei prodotti di pulizia Passare a saponi perbucato e ammorbidenti che sono privi di coloranti e profumi Per l'irritazione a causa di cosmetici Utilizzare prodotti ipoallergenici che contengono meno conservanti e profumi della pelle irritante Piante velenose Imparare a riconoscere della veleno, veleno di quercia e sommacco veleno Quando si cammina nel bosco o fare lavori in giardino Copertura esposta braccia e gambe con camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi Trattamento Il trattamento dipende dalla causa del ras Infezioni Le infezioni batteriche sono trattate con antibiotici Le infezioni fungine sono trattate con farmaci antifungini Molte infezioni virali che causano eruzioni cutanee andrà via entro diversi giorni e non richiedono il farmaco Meno spesso, sono necessari farmaci antivirali Le reazioni allergiche Un grave reazione allergica è una emergenza medica pericolo di vita Deve essere trattato immediatamente con epinefrina Un farmaco che si apre restringeva vie aeree e aumenta la pressione sanguigna pericolosamente bassa Alte dosi di corticosteroide antistaminici sono utilizzati anche per sopprimere la reazione del sistema immunitario Reazioni allergiche localizzate possono essere trattati con corticosteroide topici o orali antistaminici e ghiaccio per alleviare il prurito e gonfiore Irritanti locali Dermatite da pannolino è trattato da cambiare i pannolini di frequente e l'utilizzo di creme o unguenti senza ricetta medica che contengono ossido di zinco e olio minerale Piante velenose, la pelle devono essere lavati accuratamente con acqua tiepida per rimuovere la sostanza allergenica Solo allora si dovrebbe schiuma con acqua e sapone Se si utilizza subito il sapone prima di lavare la pelle con acqua, si è inclini a diffondere l'olio vegetale allergenica sulla pelle Dopo aver lavato via il petrolio, non si può diffondere L'eruzione è spesso trattata con steroidi topici prescrizione Tuttavia, steroidi per via orale possono essere necessari per eruzioni cutanee stese o eruzioni cutanee sul viso Malattie autoimmuni Queste malattie sono trattate con farmaci corticosteroidi e immunosoppressori i farmaci che sopprimono il sistema immunitario iperattivo del paziente Quando chiamare un professionista? Chiedere immediatamente un medico se si inizia ad avere difficoltà di respirazione o sviluppare orticaria, febbre, un impulso veloce, confusione o nausea Questi potrebbero essere i segni di una reazione allergica pericolosa per la vita Consultare sempre il medico immediatamente se uno sfogo Peggiora Dura più di una settimana Mostra segni di infezione locale, stilicidio, rossore o gonfiore della pelle Si verifica insieme con febbre, brividi, gonfiori delle ghiandole o altri sintomi di infezione, mal di gola, tosse, mal di testa, congestione nasale, ecc. Si verifica con sintomi che suggeriscono una malattia autoimmune, come la febbre ricorrente, malessere, affaticamento, perdita di peso inspiegabile o gonfiore Prognosi Le prospettive per la maggior parte delle eruzioni è eccellente, soprattutto dopo che la causa è stata identificata con precisione Nelle reazioni allergiche gravi, il paziente può morire in pochi minuti senza trattamento medico immediato Con un corretto trattamento, recupero di solito è completo Tuttavia, il paziente rimane a rischio di futuri gravi reazioni se lui o lei è esposto allo stesso agente allergia produttrici